Adesso Paolo Cenedesi, tre minuti ai per commentare. Sì grazie, intanto io ringrazio la Lega di avermi dato la possibilità di partecipare ad un tavolo così importante per il Nord e soprattutto per la mia Liguria, io sono della Liguria. Domenica scorsa noi con il nostro segretario nazionale Viale abbiamo fatto l'assemblea nazionale come molti di voi e i temi trattati nel mio tavolo, quello di ieri, erano sicuramente tra i più gettonati e sono quelli su cui sono state anche presentate più mozioni. I Comuni Liguri chiedono a gran voce l'allentamento del patto di stabilità, quindi sicuramente ok a quanto detto da Massimo Garavaglia sul patto di stabilità integrato e sicuramente ok a fare in modo che chi vuole fare investimenti senza fare debito lo possa fare. Io sono consigliere comunale di opposizione di un comune arenzano che ha 11.000 abitanti, quindi io il mio sindaco lo critico dal punto di vista politico per quello che non fa ma è negabile che il mio comune sia un comune virtuoso. Noi abbiamo 13 milioni di euro in cassa e non li possiamo spendere, cioè voi capite che è assurda, è una norma secondo me da folli. Quindi il patto di stabilità secondo me deve essere il primo punto di un qualsiasi programma, di qualsiasi partito politico. Poi come turismo noi abbiamo, chiaramente come Liguri siamo molto sensibili all'argomento. Noi abbiamo una grandissima necessità di infrastrutture che colleghino la Liguria alla parte produttiva del paese per i motivi del porto, per le nostre imprese manifatturiere ma soprattutto per il turismo. I nostri albergatori ci chiedono a gran voce infrastrutture. Un'altra cosa che i nostri operatori e abbergatori e ristoratori ci chiedono è di utilizzare la leva fiscale per rilanciarlo a questo turismo. Quindi ad esempio aliquote agevolate così come negli altri stati, perché chiaramente noi viviamo in una situazione di concorrenza sleale a questo punto. E ad esempio proposte come la possibilità di dedurre l'IMU dalle imposte sui redditi. Infine vado a chiudere l'autonomia portuale. Ieri ne abbiamo discusso e sulla mozione poi ho letto che è stato messo a prevedere agevolazioni fiscali. Noi più che agevolazioni fiscali chiediamo l'autonomia fiscale. Forse per la Lega il 70-80% delle tasse del porto di Genova, di Savone e di La Spezia dovrebbero restare sul territorio. Ora siccome sappiamo che non viviamo in un libro dei sogni, cominciamo con qualche punto in più. Per noi un punto in più significa 40 milioni di euro in più che stanno sul territorio Ligure. Quindi questo per noi è un punto abbastanza fondamentale che vorremmo come Liguri che nel programma futuro della Lega fosse tra i principali. Quindi chiudo e dico che in un Paese che da sei mesi non fa altro che parlare di Berlusconi e del congresso del PD, credo che ieri e oggi come Lega abbiamo segnato un nuovo punto di merito. E che i punti, parlando di questioni concrete, che magari poi dai media non vengano riprese perché sono interessati più a parlare di altro. Quindi è fondamentale che questi tavoli vengano fatti anche più spesso e dovranno essere alla base sia del programma della Lega, ma sia del progetto di macro-regione. Grazie.